Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale, con questo mio nuovo episodio dedicato alla serie di One Punch Man Iron Obo di No. Allora, nello scorso episodio avevamo sconfitto insieme a Saitama e a Genos, Mosquito Girl, cioè quello che lasciamo di zanzare e ora vedremo come prosegue la nostra avventura. Vi invito prima di iniziare a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora partiamo subito, qui abbiamo Tempeste Infernale, ok non ha niente da dirci qua, abbiamo i regali degli amministratori che vengono inviati nella tua casella di posta, ok, biglietto per il torneo, ah si c'è il torneo adesso, vabbè. Andiamo a parlare con Mazza Metallica che ci sta aspettando, magari dovevo passare, ah ok vabbè, scusa, ci sta aspettando lì, ah ecco qua, finalmente siamo riusciti a passare oltre, vediamo cosa vuole, hai portato un'arma vero? Allora muoviamoci, ricordi le unità dell'altra volta, quei tre idioti e il loro capo? Beh, ci hanno lanciato una sfida, devono sentirsi pronti a perdere di nuovo, comunque scommetto che per me sarà un gioco da ragazzi, questo scontro sarà il tuo debutto, fammi vedere che sai fare, matricola. E andiamo! Ciao! 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 addirittura mi friggerà e mi mangerà e via questo l'ha sentito ok sto massacrando oh cavolo ah questo l'ho sentito ma no bella per fortuna non senti un dato se sapete quello che intendo non ho ancora una mossa definitiva peccato facciamo il cambio vai mazza metallica e uno è andato è il capomango è andato no maledetto dai arriva arriva ma non ci posso credere va bene lasciamo c'è mi ha battuto c'è mi ha bloccato l'attacco figurale di massa metallica ma dai ok va bene you're strong wow ce lo siamo fatti amico vabbè ok wow però 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 non mi ha dato niente ah colpo mortale ha preso io so soltanto tirare mazzate vediamo se possiamo equipaggiarlo sarà un colpo mortale normale immagino no è un colpo finale perfetto ci sta ci sta ragazzi ci sta certo ho la spada ma vabbè allora adesso vediamo cosa fare richiesta richiesta dell'uomo influente vabbè sì dammi questa valigetta sì 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 tui tuoi ti entri che hai fatto parla con l'uomo influente buono 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 di là c'è qualcosa andiamo a vedere recati presto zona periferica va bene ok abbiamo sbloccato la zona periferica andiamo avanti no ok wow ok prestiamolo ok 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 Volevi? Cavolo mi ha rotto la difesa Vabbè Oh ti ho preso I'll beat the hell out of you I'm not done You're strong Perhaps the strongest I've ever encountered L'ho proprio distrutto Ok Tu hai cosa da dire? No Tu niente Ah eccolo qua Salvadanaio argento Valutatore Ma buono Allora vediamo una cosa No ho sbagliato No ho sbagliato di nuovo Va bene ok Andiamo dove dobbiamo andare Allora No ho sbagliato di nuovo Oh vediamo se riesco a finirlo anche questo Con il mio corpo mortale No ho sbagliato di nuovo Oh vediamo se riesco a finirlo anche questo Oh vediamo se riesco a finire il Ma forse non l'ho battuto questo. Oh no, con la mossa dicevo. Quattro. Quattro. Bellissima! Quattro. Quattro. Nessi certo? C'è stato, dai, c'è stato, devo andare a vedere gli sconti, quindi. C'è stato, dai, c'è stato, devo andare a vedere gli sconti. 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 Davvero? Ah, di poco, però. A sud della zona commerciale. Ehm, devo ancora trovartelo a te. Vediamo dov'è. Questa è la zona commerciale. A sud della zona commerciale. No, mi dice di andare al QG. Qua c'è un altro che ha bisogno di una missione. Va bene, lasciamo stare, andiamo al QG. a mutandaman. Anzi, più che mutanda, sleepman. Ok. Vediamo cosa vogliono. Occupati dell'essere misterioso che si aggira nei pressi del chiosco. No, ok. Ok, metto l'essere. Ok, metto l'essere. Ok, metto l'essere. Ehm, metto l'essere. E' stato non facile di più. Ah, ah, ah. E' proprio fatto. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Non è facile di più. S-S-S. Bella. Tutto qua. Ok, ragazzi. Direi di concludere qui questo episodio, prima di allungarlo troppo. Nel prossimo andremo ad aprire il vicolo a sud della zona commerciale. Intanto vi invito a lasciare un bel like all'episodio. Ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.